Fuga bianca Fuga sul bianco Oh, questo vedo come cosa, tipo la sigla al titolo, no? Ok, abbiamo sostituito Fiorenzo Oddio, si, non ti si riconosce, sembri proprio lei Oddio, si Su, su, forza, ehi, concentriamoci Su Ehi, ha parlato Rega, la vogliamo smettere di cazzarare Oh, no, 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 no Scusiamo Batti, sto ciao Ehi, ti stavo aspettando, sai Ciao Stai facendo un video? Casa che è diventato un set, non si capisce una mazza Gli accampati nel fine settimana Dimmi un po' qual è il tuo ruolo, cosa fai Io faccio la parte dell'incazzato come normalmente lo sono A parte fare questo personaggio fai molto altro Hai aiutato parecchio nella produzione Diciamo che ho fatto il tuttofare Dal ragazzo del service al facchino Quindi credo che la mia parte me la sono già guadagnata L'ho ripresa Documentare perché ho rischiato la vita L'assicurazione? Non c'è, è quello il problema Che facciamo, denunciamo allora? Qui si rischia la vita per che cosa? Per la gloria Qui che fate? Stiamo facendo una nave Stiamo facendo la 18 Serietà ragazzi, non cazzeggiamo Qui abbiamo Fiorenza in arte e Elena Ci racconti un po' del tuo personaggio? Un personaggio e personaggio e persone ha i miei talloni da chille La sempatia Allora la dietro ci sarà una verde, qua una rossa Ora ce ne serve secondo me una gialla da buttare in quella zona o mettiamo avanti il cavallo e la mettiamo da dietro che sale verso l'altro qua ci spostiamo sul lato, trucco Giulia che ci ha gentilmente concesso anche tutto questo venditio di spazio ci racconti un po' questo trucco è un trucco da super cattivo con delle sovracciglie a mostro e poi c'è qua il nostro fonico qui mi trovo con questa truppo di pazzi che hanno scritto una sceneggiatura da pazzi si parla di arte, di vita, di colori chi c'è qua dentro? ci racconti un po' il tuo personaggio? in questo momento, detto dal regista, sono una puttanella ingenua giusto? si, ancora non lo so di essere una granegna facci una parte che direi nella scena Alex, è arrivato? ad Alex piacerà un sacco Alex, è arrivato? no, è solo ubriaco da far schifo anche io e la mia famiglia ah e qui abbiamo un ex Van Gogh com'è questo spostamento da davanti a dietro? perché Ratti mi aveva rotto il cazzo e quindi hai detto basta recitare non è che posso prendere sempre pali in faccia però un secondo, un secondo perché qua c'è un fantasma c'è qualcuno che si muove nell'ombra e che si nasconde è il momento di mettere in difficoltà lui ma anche questa la prendo io le cuffie le puoi lasciare anche tu che è un professionale esatto Albe, com'è stato lavorare per questo film? mamma mia è una grande sfacchinata però da tante soddisfazioni vogliamo tre aggettivi? tre aggettivi stancante stretto e storto ma anche pericoloso aspetta che abbiamo un disturbatore gli studi della Rai stanno dall'altra parte scusa cacciate questo abbiamo rischiato la morte parecchie volte quante ulcere ti sono venite per girare? ma c'è un'acidità che c'è sono andati a capisco tutti i giorni e qua abbiamo un arcolizzato mamma mia che faccia buongiorno ma è naturale questa eh sì mi si vede così tutte le mattine la verità è che i nostri attori sono così professionali questo è perché non ha dormito per preparare il film non dorme da settimane per la preparazione del film voleva essere al massimo ma ci racconti un po' il tuo personaggio? no sì il mio personaggio si chiama Antonio ed è il padre familias stavo accettato di farlo solo perché si deve ubriacare come Bukowski quindi da quante che bevi? da sempre racconta come ti abbiamo ingaggiato infatti raccontaci sono stato ingaggiato alla fermata della metropolitana di Ionis sono uscito dal convoglio un po' sudato Lorenzo mi ha fermato e mi ha detto ma le posso chiedere una cosa? perché mi dava del lei mi ha spiegato che stava appunto realizzando questo film mi ha chiesto se ero interessato ho visto il volto da ubriacone a primo corpo l'ho guardato il metro e ho detto lui lui è l'uomo giusto che dovrà ubriacarsi per noi e così è stato e così è stato ed è già pronto e così è stato sono pronto per ubriacarmi per tutti l'ho rotto il cazzo a tutti? a Firenze ha poco in realtà ma io ho chissato il cazzo non può compensare questa cosa Firenze non ci hai detto niente del tuo personaggio ti racconta il tuo personaggio come conosci Lorenzo come ti ha convinto a entrare in questo progetto è una brutta storia il regista non vuole parlare Firenze si rifiuta di comunicare perché è inconcentrata per i personaggi perché non ha gli affini marroni capito mi saluto mamma e papà zia rosa mi manchi tanto eccolo il nostro ubriacone com'è sto vino? che ci dici? è il migliore? dopo i primi due litri c'è un piacere sta un po' troppo nervoso che poi al fine ripresa prenderà un bel paletone da me in realtà la persona ansiosa tra noi è lui perché io prendo Xanax tutti i giorni quindi non è possibile ma che rapporto c'è tra voi? ci sono un grado di parentesi io non poto andare un tipo da me perché abbiamo scelto questa perché siamo pazzi perché un po' siamo pazzi principalmente perché siamo pazzi ma per questo film abbiamo speso un botto di soldi abbiamo venduto le nostre case sì sì un botto di soldi mi dicono che è stato speso più dell'ultimo film di James Bond sì esattamente perché 650 milioni di dollari per Spectre noi ne abbiamo spesi 670 eh mi raccontare quello che mi hai fatto era un po' sotto stress e quindi io giustamente dato che l'ho visto un po' in difficoltà gli dò un aiutino ma per me non era veramente un aiutino perché per me una caramella e gli ho dato una piccola pasticca di Xanax e gli ho detto ti farà bene sicuramente ti aiuterà maaa notate gli occhi di Lori stesso colore del palco ti senti il cuore a mille voi a 0.10 me lo so che senti non ho mai sentito così lento proprio lo senti? ma c'è ancora? niente ci sono sono knock questo reffettino no dai dai chi suh puo è tutto back stage naturale niente vendato a trans ưởngate abbiamo ucciso abbiamo ucciso Lorenzo hai luce, guarda raga però cioè al cuore fa bene una roba del genere no ma che cosa... ma che gli stai dando? l'amaro? sì certo è amaro voglio ucciderlo ha il caffè Non giochiamo ai medici che già Marco mi ha prescritto questo Xanax di sua spontanea volontà Le parole del medico E questi sono i primi sintomi comunque perché prima aiuta a rilassarsi e dopodiché aiuta a ragionare meglio ma non c'è nessuno E sono una questione di tempo Forse 48 ore Esci fuori a prendere l'aria Tu basta da più in silenzio Marco per oggi Adesso se lo scizziamo quello che so E' andato E' andato E' andato E' andato E' andato dello Xanax a lui Aprite il cancello raga Trattamolo bene Ce la farà insieme poi raga Ritornerà a vivo Sì secondo me gli dovevamo mettere tipo 3 metri sopra il cielo La cintura Speriamo bene dai Il pallino lo so fesso Stuccai Il parcozio è bucolico Il giorno 2 Abbiamo scoperto che si dorme bene Non dormiamo così bene come mi sono andato Cioè manco a casa mia Mi piaci dove dormito io E' andato per favore Attena E' andato Divertiti però Alberto un po' Ma che abbiamo qua un regista Un riassunto della giornata di ieri c'è 15 secondi Xanax Batteria scarica Batteria scarica Batteria scarica 5 2 1 3 Un po' di Elena qua Mamma mia che scena Cosa immaginavi eh Che sia una puttana Ah il backstage per i bambini Certo si backstage in cui non ci sono mai io però Mi riprendiamo E che cazzo? Ah ecco Lorenza Dai Magno che abbiamo chiuso la scena Dai E qui abbiamo la nostra prima donna Guardala Guardala che va Super patacca 50 centesimi l'uno Oddio Oddio Spoggiati Io faccio Superman Guardate Ma qualcuno mi fa una ripresa su come sto messo Lo scrub Piacevole? E' vero invece che è bello No senso ragazzi Basta stiamo cazzeggiando perché siamo qui Oh yes Ma perché siamo finiti tutti i bamboni Anzi Basta Basta Il solito fan cazzista Basta Tiro Abbiamo i primi morti Soprattutto tu Roberto Ci sono le scarpe là Guarda quella roba là Guarda quella roba là Guarda Un viscito attrofittatore Partito 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 La truccatrice migliore del mondo Mamma mia Il riposo della guerriera A piedi scalzi Perché non ce la fa più Ti sto registrando Ti sto registrando Scusa mi ripeti che cosa sembravi ieri? Cioè mi sembrava di avere il culo del babbondo disegnato qua Mamma veramente Tavo tutto il sforzo A me mi devono vedere i miei amici Che brutta vita che per quanto fa? Non ho bisogno di un culo del babbondo Da dovevo cambiare l'azione Tutto, tutto, ma questo no Ma questo no E oggi si mangia bene finalmente La prima cosa sana che mangiamo da giorni Perché non cucino io Wow E che siamo a Masterchef Masterchef E avere un orgasmo Un tipotino orgasmo Pa 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 LetIt Zone Questo? Studio sono io Ah ok Sì un corto piccoli momenti di backstage dio marco lo tagliamo poi lo censuriamo dopo perché capito sono qui nasconditi nasconditi fuga da paolo fuga di paolo fuga di paolo bomba bambini solo danni quando giriamo se ne ho sfruttato come marco non lo riprendere sì non ci ha firmato l'interno cazzo dobbiamo svegliare alle 6 domani è tutta colpa sua se adesso siamo questa testa di cazzo questo povero uomo sfruttato schiavizzato gli abbiamo stravotto la casa va bene niente tutti qua semplicemente per dare questa cosa il marsupio la quanta che voglio un marsupio voi non avete idea i marsupio non sono mai buono il marsupio il marzo il marzo scatta la no 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 wow bello è stata rilasciata pochi mesi da ragazzi grazie ragazzi non l'avevo usato vero oddio io in realtà l'avevo provato eh aspetta aspetta wow wow è proprio perfetto ragà grazie a tutti dai tutti e tutti baci in camera si baci da vabbiamo un case sulla punta sbarrrrr eh gatz tredici gennaio è il tuo Stai facendo un backstage instabilizzato La mia è il miglio con Paolo Mi ha portato una bottiglia di vino Ho preso del vino È migliore Per festeggiare Alex Per festeggiare Alex Ehi Ehi No No Ok Una sequenza Abbassiamo l'operatore Sì, sì, grazie Ciao bello Come stai? Oh ma sta cosa, tenetela ferma sta cosa, oh fermala Ora attenzione Oh non mi trovo bene io Devo stare dietro, ti piace dietro? Mi piace più dietro Sinceramente sì Comunque ragazzi sono davanti stanco Sei stanco? Di cose qua Ma sempre alla ventaglia Mamma mia oh Mamma mia che fiacca che c'hai Carrellata all'indietro sul pover uomo Ricominciamo Andiamo Andiamo a girare di nuovo Andiamo a casa Ricominciamo Oh 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 Grazie a tutti.